Sono Carlo Orlandini, amministratore della Fomit. È una società nata nel 1972. Abbiamo festeggiato questo dicembre passato i 50 anni di attività. Oggi la nostra realtà è una realtà che opera nel settore impiantistico a 360 gradi, coprendo la parte termica, idraulica ed elettrica. Noi abbiamo creduto nel fotovoltaico dall'inizio e siamo diventati anche un'azienda partner della Menekes, che è la sud tedesca, che produce colonnine di ricarica. Quindi noi nella nostra azienda abbiamo una colonnina di ricarica già dedicata e quindi disponendo di un impianto fotovoltaico in coperture, disponendo di un campo fotovoltaico a 400 metri da noi, il futuro dell'azienda sarà sicuramente sempre più orientato verso l'utilizzo e l'acquisto di mezzi che vadano ad energia elettrica. Ringrazio la Volkswagen, quindi via vai, per aver creduto in noi e quindi averci dato le chiavi del mezzo e messi in condizione di poterlo provare. L'abbiamo utilizzato, abbiamo fatto una prova perlomeno per capire quelle che potessero essere le possibilità che il mezzo ci offriva, caricandoci dentro dei moduli fotovoltaici, degli inverter e quindi per simulare quello che poteva essere un lavoro da andare a svolgere, ovviamente in ambito regionale. Grazie